Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel 1911, siamo nel giugno del 1911 e ci troviamo in una situazione in cui Padre Pio da Pietrelcina, lo ricorderemo tutti, si trova nella sua terra natale perché è una strana malattia, lo costringe a rimanere a casa. Lui racconta qual è anche il suo stato d'animo e si preoccupa del suo stato fisico perché forse c'è qualcosa effettivamente che non va e racconta le medicine che ho preso è come se le avessi gettate in un pozzo, racconta ancora, come raccontava spesso nelle sue lettere, dico sinceramente che soffra assai e si procederà ancora in questo modo, non saprei nemmeno io come andrà a finire. Mi aiuti un po' Padre mio, se vuole, perché non ne posso proprio quasi più. Sarebbe proprio da consigliarsi una visita da qualche specialista, sebbene preveggo che il viaggiare mi produrrà di certo un grave sfascio alla salute, ma che vuole? La necessità in certi casi è una triste consigliera. Inoltre tale visita si rende quasi impossibile anche per le attuali strettezze della famiglia. Si faccia però il volere di Dio. Chiaramente tra qualche mese, siamo nel 1911, verso ottobre, ci sarà questa visita da questo specialista di Napoli, Caldarelli, che gli darà una vera e propria sentenza a questo ragazzo e a Padre Benedetto gli dirà portatelo nel convento più vicino perché questo ragazzo ormai ha i giorni contati. Ma ancora, in questa lettera Padre Pio racconta, ho voluto farle sapere questo più per maggiore tranquillità di coscienza che peraltro, poiché sono sempre disposto a fare la volontà di Dio e dei miei superiori. Il demonio intanto si giova di questo indebolimento di forze e di impossibilità di reagire per maggiormente affliggermi con fantasmi, spauracchi, ma Padre mio quali sono i fini di Dio perché permette al demonio tanta libertà? La disperazione vorrebbe prendermi, eppure mi creda Padre mio la volontà di dispiacere a Dio non ce l'ho. Io non so rendermi ragione e molto meno intendere come mai possa stare insieme volontassi risoluta e pronta ad operare il bene con tutte queste miserie umane. Se dunque scorgesse che io stessi in pericolo per l'anima mia, mi aiuti se non vuole vedermi ridurre in cenere di peccati, perché l'anima la voglio salvare, la voglio salvare ad ogni costo e Dio non voglio proprio più offenderlo.